Dalla Sampa al Cosenza, passando dal Valenzana e dal Porto Gruaro, Edoardo Blondera ha una promessa dei blu cerchiati insieme ad un certo Maurito Icardi, oggi talentuoso nerazzurro, ma così va il calcio. Non sempre la maturità si raggiunge percorrendo un rettilineo. Spesso la strada è tortuosa come quella che ha portato il difensore centrale tra i lupi di Cappellacci. Per ora molto positiva, soprattutto ultimamente, ora ho tolto l'espulsione e la squalifica, comunque sono stato chiamato in causa e penso di aver disputato delle buone prestazioni, quindi per ora sono soddisfatto ed è stata positiva fino ad adesso. Per lui il rosso-blu, un po' di anticamera e poi il sambito, complice l'infortunio di Pepe. Era un periodo che mi stavo allenando bene, poi c'è stato quell'episodio a mio favorevole di Melfi che mi ha gettato nella mischia in campo e alla quale ho risposto presente. Ora io torno disponibile questa domenica e quindi farò, mi allenerò al meglio per poter giocare e poi sarà il mister a decidere. Adesso, dopo lo stop per l'espulsione subita a Poggi Bonzi, il giovane difensore centrale si ripropone all'attenzione del mister per la trasferta di Gavorrano. Un avversario che comunque, nonostante la situazione di classifica, sarà, anzi a maggior ragione, sarà agguerrito e con la voglia di lottare per dire ancora la propria. Ma noi andiamo là cercando comunque i tre punti, però non sarà sicuramente semplice perché loro non ci regalaranno niente. Dopo lo scialbo pareggio con il Chieti, tutti si aspettano una reazione dal Cosenza formato trasferta che fino ad ora ha ciccato una sola volta con il Lamezia. In casa effettivamente forse è più difficile perché le squadre vengono qua a San Vito, ormai con la consapevolezza che noi siamo comunque una buona squadra e quindi difficilmente riusciamo a giocare o comunque anche a merito degli avversari che ci chiudono bene gli spazi. Il sabato è stato un po' così, anche se era un periodo che comunque stavamo facendo bene, stavamo esprimendo anche un bel gioco, però è stato importante comunque tirare via un punto che comunque fa sempre classifica e anche in situazioni così e partite un po' meno belle è importante. Grazie.